identificato il cadavere della donna trovato nel palazzetto dello sport in via Allende a Salerno si tratta di un 81enne salernitana senza fissa di mura che sarebbe stata accolta da un improvviso malore sul corpo non ci sono segni di violenza la donna che viveva per strada molto probabilmente utilizzava lo scheletro della struttura sportiva incompleta per ripararsi dalla pioggia la sua morte risalirebbe a circa 10 giorni fa Grazie